Un saluto dal Tg della mobilità Monteverde per l'avanzamento dei lavori in via Poerio, via Quadrio, la linea 75 in direzione di via Poerio, da via Fratelli Bonnet continua su via Carini, normale itinerario, in direzione piazza e indipendenza, da via Poerio, via Mario, via Barrili, via Regnoli, via Lele 420, via Piazzale Dunante, Circonvalazione Genicolenze, via Le Trastevere, via Induno e poi normale itinerario, temporaneamente soppresse due fermate. E da martedì 1 febbraio l'accesso allo sportello al pubblico di Roma Servizi per la mobilità è consentito su appuntamento soltanto ai possessori del Green Pass base, in alternativa serve il certificato di esenzione dal vaccino. Per prenotare l'appuntamento si può utilizzare l'app Solari Q o in alternativa chiamare lo 0657003. E tutto appuntamento alla prossima edizione.